direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto prima di procedere con l'estrazione vi ricordo l'incredibile iniziativa pasqua cento per cento con validando una giocata con superstar valida per il concorso del 20 aprile troverete sulla ricevuta di gioco i codici alfanumerici per partecipare alla ricca estrazione di ben 100 premi garantiti da 100 mila euro ciascuno ed ora andiamo a scoprire quale cifra ha raggiunto il jackpot oggi sabato 30 marzo 127 milioni 978 mila 13 euro il più alto al mondo le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di rollo diamo ora il via alle stazioni concorso numero 39 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 20 siamo al secondo numero con super in allotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 47 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 1 il quarto numero estratto è il numero 28 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 10 è giunto il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 55 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly estratto di questa sera è il numero 6 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 20, 47, 1, 28, 10, 55 numero jolly 6 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le spere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super in allotto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna il numero superstar estratto di questa sera è il numero 40 ricontrolliamo tutti i numeri estratti il concorso numero 39 in ordine crescente 1 10 20 28 47 55 numero jolly 6 numero superstar 40 l'estrazione di oggi sabato 30 marzo termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 127 milioni 900 mila euro il più alto al mondo è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 39 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera questa estrazione del super in allotto assegna 698.502 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 127 milioni 900 mila euro il più alto al mondo sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super in allotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 129 milioni 200 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 17 e vincono 14.537 euro ciascuno i 4 sono 1.594 e vincono 157 euro ciascuno i 3 sono 49.430 e vincono 15 euro ciascuno i 2 sono 602.391 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 17.428 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 2 e vincono 15.732 euro ciascuno i 3 stella sono 198 e vincono 1531 euro ciascuno 100 euro vanno ai 2623 2 stella 10 euro ai 14.054 1 stella 5 euro ai 28.193 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi Super Nenalotto vi dà appuntamento a martedì 2 aprile giocheremo per un jackpot di 129 milioni 200 mila euro arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti